Tutti parlano di crisi, ma alla pulizia e all'igiene non puoi rinunciare. Floor Wash ti dà garanzia di durata con costi di utilizzo ridottissimi. Ti sei mai chiesta dove gioca tuo figlio? Non si vedono, non si sentono, non pungono, ma sono con noi a migliaia, milioni. Sono gli acari della polvere, responsabili di quasi il 50% delle patologie allergiche respiratorie. Anch'io adesso no floor wash. Con il sistema di recupero dell'acqua la va sempre con acqua pulita e le due spazzole mi garantiscono la rimozione totale dello sporco, anche dalle fughe. Quindi niente sporco, niente acari.